Hai fatto bene a parlare di Champions League perché ti vengo a chi fare una domanda io ti trovi nella situazione un po' capovoto perché l'Inter ha concrete possibilità di passare L'anno scorso si diceva che ha vinto il campionato perché non avere le coppe sarà un vantaggio stavolta il Milan che potrebbe avere, perché credo che dopo Milan-Liverpool saluteremo la compagnia lo stesso vantaggio Sì, la situazione di capovoto e ti vorrei fare svesti i panni del conduttore Svesti i panni del conduttore, vabbè non li hai mai vestiti Svesti i panni, ti faccio la domanda io a te, ti faccio Se ti avessero detto oggi il Milan si trova nella situazione dell'Inter ovvero a meno 7 in campionato ma in Champions secondo col destino nelle sue mani Avresti accettato o dici no va bene così come sono adesso? No va bene così perché bisogna capire le possibilità in Europa Il Milan comunque quest'anno, cioè sì però il Milan quest'anno comunque se andava agli ottavi comunque andava fuori Io non facevamo da strada E questa domanda, noi dobbiamo ripigliare lo scudetto prima dai Sai perché l'ho fatta lui e non a te? Si passa sempre dallo scudetto Sai perché l'ho fatta lui e non a te? Perché lui è più competente Oh Grazie Posso stenderti la mano, c'ho Panoglu Gli potresti dare anche un giallo No 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 Gestazzo No no A te lo faccio No invece ha ragione E poi l'ha girato di schiena, non l'ha visto Non l'ho visto, io non vedo quello che succede di qua oggi Io avrei detto il contrario Quindi tu sempre Europa Beh noi avresti detto sì Io mi vado a giocare la Champions Indipendentemente da Perché comunque è un altro palcoscenico Perché comunque sono per una squadra come il Milan Andarsi a giocare un ottavo di finale È comunque costruttivo E poi se esci Sei un ottimo discepolo di Carlo Pellegati Perché Carlo Pellegati che seguiamo entrambi la pensa come te la pensa Luca Vai Che stavi stuprando Winnie Veramente No abbiamo visto altro Veramente qui Perché quando non siamo inquadrati succedono delle cose Veramente qui noi abbiamo visto altro Vabbè Io ero girato non ho visto niente Era Winnie Era Winnie Se ne stava approfittando Ero coperto come l'arbitro Ero coperto Adesso Winnie si è spostato perché vuole mangiare lo snack di Camilla Gli e Catà l'abbiamo visto tutto Vabbè comunque Domanda Come ti spieghi il tabù negli scontri diretti per l'Inter in questa stagione? Quanto Scudetto passa dai big match? Si dice sempre che poi bisogna vincere con le piccole per vincere lo Scudetto Come te lo spieghi? Non me lo spiego Nel senso che comunque l'Inter Secondo me non gioca male Non sarà la squadra che fa il calcio più bello d'Italia o d'Europa Ma non è neanche una squadra che gioca male Con la Lazio avevamo la partita in pugno e l'abbiamo persa Con l'Atalanta potevamo vincere e l'abbiamo sbagliata in rigore al novantesimo Con la Juve e il Milan secondo me Se vincevamo non rubavamo niente Li abbiamo pareggiati tutti e due Non me lo spiego Perché poi anche con lo Shakhtar in Champions non abbiamo vinto Con Real Madrid abbiamo perso anche lì in fondo Stanno giocando bene Capito Camilla perché fra due settimane no? Non c'è Lazio e Juve Sì C'è il gran partita interna per il Lazio e Juve La partita di Sarri Camilla La Lazio è a quattro punti dall'Inter Sarà molto agguerrito quindi Non ho capito Sarà molto agguerrito Sarri Denti avvelenato Anche Gaddoni Ma no è vero è vero Infatti Gaddoni che già Però questa Lazio qui Sarri ha detto dobbiamo migliorare Stiamo migliorando C'è quattro punti dall'Inter Un punto dal quarto posto Alla fine alla lunga Alla fine avevo detto che Piano piano Ci avrebbe messo un po' comunque a prendere C'è il tuo amico Sarri fra due settimane Gaddoni Sei contento? Ma io Il mio amico Il mio amico no perché Ma come ne hai sempre parlato bene Gaddoni No 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 Sarri Guarda io non l'ho mai amato È una bravissima persona perché la Juventus Saluta sempre Non ha fatto problemi Sì saluta sempre molto educata Ha fatto all'inizio qualche Qualche lamentela ridicola Quando mi ricordo andammo a giocare a Firenze Faceva molto caldo Quindi la Juventus era in difficoltà Sembrava che la Fiorentina Nel suo metà campo Giocasse con i frigoriferi accesi Cioè voglio dire A cose assurde come fece All'epoca Come fece all'epoca Che abbiamo perso il campionato Dentro alla hall dell'hotel Dai Delle stupidaggini Hai perso il campionato Perché Fai giocare il Napoli Lo facevi giocare bene Ma quella partita L'hai perso Punto Alla penultima gliel'hai rubata Alla penultima gliel'hai rubata Però Sarri a me non piace Proprio il gioco che ha Non mi piace Non sa difendere E io spero che gli faccia male La Juventus In contropiede Tanto noi possiamo giocare solo così Luca La pausa delle nazionali Arriva nel momento giusto O nel momento sbagliato Per l'Inter? Per l'Inter Può essere anche il momento giusto Per Napoli e Milan Nel momento sbagliato Perché ovviamente Quando una squadra è in palla Va bene I risultati ci sono Bisogna Finché la barca va Lasciala andare Quindi secondo me Io spero Che questa pausa Delle nazionali Possa spezzare un po' Il ritmo A me Alle Napoli Poi Se succederà così Oppure no Non lo so Il Milan è già molto sculato Vedo che alla prossima Deve giocare con la Fiorentina La Fiorentina Ascenza tutta la difesa Intanto Gaddoni Ha cominciato Però avvicinandosi l'ora di cena Avvicinandosi l'ora di cena Ha cominciato a fare i suoi ordini Sul globo Va bene Nazionale Tu Luca che sei Ti fantozzi molto Quando c'è la Nazionale È una paese da torse Senza Bonucci E che non dovrebbero esserci Bonucci E che ligni Secondo me è una finta partita facile Secondo me Eh la Svistra sta facendo Un bel percorso La Svistra è una squadra rompipalline Secondo me Facciamo fatica Però In qualche modo La spanghiamo Dico 2 a 1 2 a 1 Mi dai anche già il risultato Ragazzi Italia Svistra Ditemi un po' Anche per me è 2 a 1 2 a 1 Per me è 1 a 1 1 a 1 Purtroppo Perché è ignorante la Svistra È ignorante come Gaddoni Gaddio Italia Svistra Italia Svistra È partita di calcio sabato Per andare ai mondiali È a febbraio Non è boccette capito Io le Svizzere mi piacciono Mi piacciono Ti piacciono? Sì Eh meno male Abbiamo trovato qualcuno Che mi piace Delle Svizzere ti piacciono Gli hamburger Ah Svizzere Gli hamburger Oh Svizzere Purine Che stanno bene Che sono un po' freddine Italia Svizzera Dove giocano? A Roma A Roma A Castel Sandro Vinciamo dai Vinciamo Vinciamo 1 a 0 Va bene 1 a 0 Insomma l'Italia Che ha bisogno di vincere Per andare in Qatar 2022 Non c'è la nazionale Ma vi faccio Vi chiedo Vi facciamo un giro Su quello tra poco Quindi 20-21 novembre Fra due settimane Lazio-Juventus Per Gaddo e Camilla Inter-Napoli Belle partite E Fiorentina-Milan Partite niente male Camilla Perdiamo 2 a 0 Sei una buona Camilla Ma è diventata di uno scontato Camilla Dice sempre che perdono Vabbè però è una tattica Se funziona Vediamo 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 Gaddo Perdono 2 a 0 È rapportativo Al palissiano 0-2 tutte e due Va bene E sono neri tutti a due Siete d'accordo Vediamo chi è che bleffa Credo Camilla Ovviamente Luca Inter-Napoli Una bella sfida Alto scontro importante Vedo una partita tirata Con l'ex Spalletti Con l'ex Spalletti 1 a 0 Per l'Inter 1 a 0 Per l'Inter Ci potrebbe anche stare Sabato sera Sabato sera Al 20 novembre Alle 20.45 A Firenze Fiorentina-Milan Partita che colpifero Che è facile Tra l'altro Ha perso I due centrali Che culo Senza Milenko Vici e Martina Squarta Chi gioca Vedi come mettono le mani avanti Allora io dico Risultato 2 a 3 2 a 3 Partita pilotecnica a Firenze 2 a 3 Sabato sera Va bene Va bene Ci facciamo da vedere